Stasera una diretta particolare strana, siamo tristi, quindi abbiamo preso la Nutella sempre in diretta dal Mugello, allora come avete sentito dai comunicati ufficiali c'è stato un piccolo problemino, quindi anche se il numero di camper si è raggiunto per Guinness World Record, ma la manifestazione per l'assegnazione del primato è stata annullata per motivi tecnici e noi qui ci fermiamo, non diciamo niente, ma noi abbiamo risolto il problema così, con una mega tavolata, guardate qua, guardate qua cosa c'è, guardate anche da questa parte, abbiamo risolto il problema così, quindi bicchieri di vino da tutte le parti d'Italia, quindi problemi non ce ne sono, non sappiamo cos'è successo, qualcuno più IVA, qualcuno più IVA senza IVA e Sandra sta dividendo qua pezzettini di biscottini con la Nutella, ciao Gianluigi, lo salutiamo, allora noi a questo punto ritorniamo a fare le nostre dirette normali, classiche, ricordate qua ci sono messaggi d'amore, un po' di tutto, ma perché ti ha detto ti amo? Niente amore, perché stai facendo questo, vero? Ecco, quindi, Alex Camber, eccolo là, dai pure lui, allora, noi ci limitiamo a questo punto a io, perché lei sta mettendo Nutella, quindi, scusate, ecco scusate, ecco la Nutella, i nostri prossimi appuntamenti in Sicilia questa volta, per il ricordo, 18, 19 e 20, Camberisti Sicilia Club, l'Ottobre Fest, al villaggio Marinello di Oliveri, in provincia di Messina, pure Daniele e basta, ogni volta che si collega su Daniele e basta, io non ho capito, perché? Questo naturalmente a ottobre, quindi prossimo fine settimana, in provincia di Messina, a villaggio Marinello di Oliveri, con gli amici Camberisti Sicilia Club, per il primo ottobre feste, poi invece, sempre in Sicilia, saremo il 31 ottobre, 1, 2, 3 novembre, con gli amici di noi Camberisti in Sicilia, il secondo novembre, il Camber Fest, scusate il casino, ma per ora è così, e saremo al, come si chiama, l'area lì al parco, passi al parco, qua passano davanti i pezzettini di, 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 biscottini con la Nutella, vedete, passano avanti, ecco, qua non si ferma, pane con la Nutella, oggi è una diretta un po' così, e scusate ma, vi ricordiamo naturalmente, questa volta il signor Solbio ce l'abbiamo qua, eccolo lì, presente, quindi come sempre vi ricordiamo di usare prodotti biologici, Solbio lo trovate, lo trovate, su maino.it, per il resto, ragazzi, noi stasera chiudiamo qui, abbiamo dolcini, un po' di vino, l'evento è saltato, comunque ci siamo divertiti, beviamo per dimenticare, tanta bella gente, ci vediamo giù in Sicilia e noi continuiamo a girare, vi manderemo i filmati, ciao mamma, i filmati e le foto dagli altri posti che andremo a visitare, facciamo un'altra panoramica prima di chiudere, buon Solbio a tutti, pensate che è tanto, è tanto biologico, è tanto biologico che si può purebere e noi vi diciamo sempre buona strada, ciao!